Salve a tutti amici e ben trovati, io sono i nostri Mitterri e oggi do una visuale diversa partiamo con questo nuovo video sul pack opening di FIFA. Come vedete siamo qui alla settimana completata, penso di essere livello 2 sul full del device. Un anno sicuramente ogni volta si scala sempre di un posto, non so perché io sono livello 1, poi però prima della fine del countdown si cade un posto comunque. Allora qui c'è una pressione in cui abbiamo i soldi, le domeniche redi, orbs e 2, i giocatori all dry, il mazinco e infine quelli non scambiabili, i pacchetti non scambiabili. Io sempre ho deciso sul se devo prendere i soldi e scarpare via o prendere i racchetti. Normalmente visto che siamo un pacco prendiamo i pacchetti e prendiamo gli stil qua. Ah io sei proprio, prendiamo i soldi, sei rera. Deo Tovi, oro, prime, non scambiabili, zinco e rai non scambiabili. Ah, andiamo in opzione 3 così ma più pacchetti per noi e ci difettiamo un pochino bene ci sono i due va bene ok oltre a questi pacchetti qui avevamo anche quelli della squad battles quindi avevamo ben sei pacchetti come eravamo quattro due di prima più succulente, più ricco la cacata di turno e va bene andiamo a prendere questo bel pacchetto di merda dalla sacra del blu packing via per fare qualche sfida va bene un pacchetto, attenzione non è pacchetto non è walk out manderine occhio e manderine portogallo td cansello cansello 83 già ce l'ho comprato per due mila che non è tanto però un bel pacchetto diciamo con cansello se mi è so sia bene proprio maripan sereidai clive clive è buono un terreno così a casa altre cose un pacchetto ora un premium attenzione non è walk out almeno banderine banderine neanche banderine ok italia d benlandeschi no verdi un walk out almeno banderine cavolo banderine ok banderine ci siamo brazil ad malcolm oh malcolm x si vende abbia saldole si vende si vende molto bene ok abbiamo quindi marco abbiamo posto cos'altro abbiamo marxeno adesso adesso faccio sempre anche ha un workout a meno bandiere si idriano cdc delossi credo delossi una bella folta inga forse è troppo folta vabbè comunque delossi non è ma non è un pacchetto non c'è altro abbiamo velotti il mio gallo velotti microzone anche normale che è il mio corazon poi cuillate petani amici l'ho sacchetto potopotto poi marcone bu cali lì sono tutta gentile giocparte vabbè si andiamo al club i doppioni lo mandiamo lì lo mettiamo gli esperimenti mentre vai 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 non ci va non ci va tu scartiamo vai vai ah che non sono scambiabili ecco perché scambio con doppioni e club ecco come ho accorto e infatti ha fatto una cosa vabbè ha perso circa sui giocheri dai su bacianate andiamo a questo alto giocatore di 5 orari vediamo un po' cosa ci darà work out a me la banderina si pensiamo in brasile attenti chi è William cos'è non è male non è male vediamo un po' che c'è qualcosa altro di carino papà d'alberto moreno quanti abbiamo giocato argentari ti prego un walk out anche dato un walk out anche dato da 5 hanno un walk out una banderina neanche cosa spagnola dc chi sei marcano ma chi sei ma chi ti caga marcano e anche l'altro sei marcano abbiamo c'è una tambiera ma chi bu di altidorm bla poi tanti ora andiamo l'ultimo pacchetto ragazzi pacchetto giocatori misti prime e abbiamo un po' giocatori di cui sei rari 4 guardate 4 prozo cioè tutte le cose ovviamente e vabbè un walk out un walk out un walk out e non mi sono sei walk out e neanche ma chi sei kai bui kai bui kai bui kai bui e che cazzo sei e vabbè vabbè abbiamo gonzazzo okazaki da Nelly grande da Nelly che aiutava il limonò c'è una regola lì e tu l'ho fai messo lì vabbè questo non si può scattare mi sembra si possono essere elementi classi si beh ragazzi è stato uno spacchettetto di merda ma e questo è il bello di fifa i spacchettetti di merda ci sono semplici è un po' quanto possiamo vendere magari da cansella qualche bella cifra ci facciamo è un po' un frontapresso ma prima si muove da 3000 farei tanto che ho fatto prima allora vogliamo idea mettiamo fatta una 1200 proviamo ad aprire questi pacchetti il primo workout attenzione abbiamo banderine banderine ok ci siamo portogallo cc pizzi ok un doppione pizzi va bene ok si coltiva con le merda ho l'indelof dunia workout ovviamente neanche banderina ns ok ho dato via ns mi tolgo lo ns nel pacchetto quello dell'ajax contro z bene ho giocato oro mentre non è un workout cc di svizzera ecco insomma il z e miley granissimo neanche le banderine ci esce il z e miley guamper rafinia camarà alz berengher diop è un rischio odore andiamo col pacchetto oro rari attenzione non è workout ok meno banderina neanche banderina ok svedese cc fosberg grandissimo colpo fosberg bene sanek non quello buono demaio waknault è l'ultimo che è il giocatore zincorale ti spiego almeno qui walk out ti spiego almeno qui walk out è walk out attenzione attenzione bandiere chi sei chi sei brasile portiere allison attenzione l'ultimo pacchetto ci riserva il walk out meraviglioso di uno dei portieri più buggati ma anche più forti del fifa ossia allison baker l'ex roma mamma mia ragazzi almeno un walk out hanno trovato e anche genè un if attenzione pacchetto super incredibile con un if e un walk out tutto via andiamo verso via tra sperimenti l'utilità a casa e poi pizzi e kaiubu discartiamo invece e basta è già confermere se discarte in modo tutto ah lì sono veramente con 34 da 2 da 7 di spesso 89 89 questo è un portiere bestia dico anche se anche molto forte io nel Division Rivals lo trovo sempre e rompe le scatole detto questo non resta che salutarvi invito a lasciare un like in caso il video vi sia piaciuto iscrivervi al canale e attivare la campanellina e sugiarmi sul twitch lo fatele live sui vari giochi sui social come facebook instagram e twitter così rimanete aggiornati sul mio lavoro e niente al prossimo episodio passo e chiudo asciutto asciutto Grazie per la visione!